E' da sempre che vi corriamo incontro. Abbiamo creato una grande rete self-service dove oggi potete trovare uno sconto su benzina e gasolio fino a 40 lire al litro e fino al 30 settembre continua la promozione mozzafiato. Alla esso la sosta si fa ricca. Ciao! Perché non puoi me dire quando incontrerai la donna dei tuoi sogni? I nuovi deodoranti Gillette Azione Extra controllano gli odori prima che nascano per sentirti fresco tutto il giorno. Deodoranti Gillette Azione Extra, una protezione continua per essere pronto a tutto. Grazie. Buongiorno a Maradise. La tecnologia da sola non basta. L'immaginazione da sola non basta. Gli strumenti digitali Canon vi portano più lontano, dove il pensiero vola più alto. Canon, fantasia al lavoro. Eccola, è questa. Ah, la nuova Laguna 97. Cosa l'avete fatto? L'abbiamo arricchita. Climatizzatore. ABS. Motori a iniezione multipoint. Airbag. Bella. E il prezzo? E tutto questo ha... Ah, siete impazzini. Nuova Laguna Station Wagon RTX, 30 milioni e 970 mila. Mai così avanti, mai così vicina. Dino, dammi un crodino, che magari mi torna l'appetito. Eh, sì, Bianca Nede, ma che è successo? Ma sta un po' così, sarà quello che ho mangiato ieri sera? Eh, non lo so, che hai mangiato? Ma è lasagna al forno, due pene e quattro formaggi e tottenne nella panna. Sai, la cena da mia suocera, quella è una strega, però cucina bene. E poi la caponata, le melazone fritte, profiterò il panna coppa, tiro il misù, caffè. Ammazza caffè e una mela. Come dire che c'è stata la mela che mi ha fatto male? Rodino, l'alcolico biondo, va a impazzire il mondo. Sport Show è alla Fiera di Genova, dal 6 al 10 giugno. Sport Show, io ci sono, vi aspetto. Nulla può freddarti la mente come solero algida. Sorbetto di frutta esotica e gelato alla vaniglia. Tutto il mio. Solero algida.